Daimon dal verbo distribuire, ripartire, separare, l'opposto di religio, legare, unire. È il doppio, l'altra faccia della medaglia, il bifronte desiderio umano, il conflitto primordiale tra obbedire o scegliere, accettare o rischiare. Eraclito osservava che tutto scorre, idea insopportabile alla ragione. Una vita senza scopo, vissuta senza traccia, senza speranza, troverà una risposta nella fede e, per l'arte, nell'illusione del rinascimento, che credette di aver trovato un assetto definitivo. Ma il vivere pericolosamente del romanticismo romperà l'argine. Il pantarei, tutto passa. L'anima del pessimismo allagherà l'Europa. A Galatina, città salentina, affreschi della basilica di Santa Caterina d'Alessandria, mostrano l'anticristo che avanza, lasciando dietro sé spiriti impuri, le rane. Ha ali di pipistrello, zampe di gallina, corna ed orecchie di satiro, retaggio greco. Nessuno conosce sé stesso e, se si avanza a tentoni, Peter Bruegel, il vecchio, nella parabola dei ciechi, al museo di Capodimonte a Napoli, si ispira al detto popolare, se un cieco guida l'altro, tutti e due cadranno nel fosso. Lo sfondo è nordico, freddo, disabitato. L'opera è del 1568. Il nord è afflitto da un flagello di pestilenze, di lotte religiose. Malati, folli, deformi, lontano dai villaggi cercavano rifugio. Il primo ad inciampare ha una fiasca, forse è ubriaco. Chi lo segue è la maschera dello scherno. Il terzo sembra spiritato. Sulla spalla sorregge la mano d'un corpo scheletrico. La stupidità ottusa chiude la fila. Nel 1494, Papa Innocenzo VIII, nella bolla Summis Desiderantes Affectibus, si scaglia contro le streghe, i sortilegi e gli incantesimi. Notate, siamo in pieno rinascimento. Già che il mondo è in figo, mi vesto a lutto. E' scritto in fiammingo, in calce, alla tempera del misantropo. Stesso autore, stesso museo. Il ladro se ne fa beffe, protetto da un insolito cerchio magico. A Galatina, l'angelo e Lucifero hanno uguale altezza e si dividono le opposte fazioni. Due soli simmetrici, secondo i padri della Chiesa, rappresentano il sole e la luna, ossia gli occhi di Dio. Attorno ai corpi, uno stabilio di ali addolciscono il trapasso che per quanto possa ridere e sorrere la morte dalla lancia affilata anche il suo cavallo teme. Ed il conflitto tra il bene e il male che è entro noi nell'attresco il castello si esprime nella devozione di simboli opposti ed equivalenti perché ogni fede esige cecità, incapacità di vedere con la luce della ragione. Di gusto nordico il crudo realismo dei corpi nella rappresentazione dell'Apocalisse morti, risvegliati dalle trombe inghiottano mortali imploranti dai glutei ingombranti. Gli affreschi della Basilica risalgono attorno al 1450 che nessun racconto può esaurire. Hieronymus Bosch in quegli anni era attivo nelle fiandre e certamente assistette al sacco di Gand alle torture pubbliche e le crocifissioni ed alle inferborate prediche visionarie di Alain de la Roche che riprendeva apocalisticamente i proverbi e le leggende popolari per lo più pazzesche. Da Delph nei Paesi Bassi proviene la miniatura dell'assedio al Castello della Morte dal breviario della Biblioteca Marciana a Venezia. Se è raffinato lo sfondo nel contrasto tra il grigio blu e arancione truce è la concitata lotta l'esercito dei mostri che escono dal castello o risorgono dalle fosse la morale è chiara inutile combattere con la morte con essa non si gioca essa tiene il banco. Di qualche imitatore di Bosch è questo San Cristoforo silografia medievale al gabinetto delle stampe degli uffizi nella parte alta porta un motto che esalta la grandezza e la forza di quest'uomo parente stretto di un golia tedesco a giudicare dal barbarico aspetto ma è l'intorno che ci diverte assalti dal mare uomini pencolanti scale marine pescatori di mostri barcaioli lubrici frati furtivi streghe mendicanti e a destra soldati conici cavalieri ironici pesci ad uso martello ed ancora in anticipo sui tempi la favola di Guilla il mondo è il campo di battaglia dove bene e male si confondono è quel che passa si ripete al museo di Bassano il bulino porta la firma di Bosch e il titolo è la barca blu nella simbologia del pittore il blu è il colore della frode il tema della barca con a bordo i folli o gaudenti era diffusa nel 1509 Erasmo da Rotterdam pubblicò l'elogio della follia e follia è la condanna moralistica dei piaceri della vita ed il poeta siriano avverte dovremo rendere conto a Dio delle gioie rifiutate i simboli sulla barca sono inequivocabili il vaso Pandora lo sa è simbolo del sesso femminile ed uno spartito musicale cos'è nel medioevo l'associazione per musica e femminilità era demoniaca inevitabile narrar di streghe che secondo il medico Battista Condronchi uomo del seicento usano strumenti bizzarri quali chiodi e cappelli dai verbali dei processi gli oggetti contestati sono di uso comune per le donne vasi specchi unguenti mortai i vasi chiusi erano prelibatezze per le notti di sabba una vecchia alza un piatto con galletto spennacchiato nel vaso in primo piano di una scritta ebraica altra associazione storica che dannatamente ancora ci trasciniamo dal vaso esce vapore denso di rospi e rane scorpioni dai salsicciotti indubbiamente fallici di cui le streghe sono notoriamente ghiotte sgorgano prelibatezze di cui la prima a sinistra degusta in un vistoso calice il capro presenza divertito e due zampe di pollo escono dalla olla ribollente che una valchiria regge a distanza con un forcone cavalcando una viete volante che le stranezze siano privilegio femminile non esclude che i maschi siano maghi nel camuffamento i mendicanti in una stampa di un fiammingo del sedicesimo secolo conservato agli uffizi ne offre visibile prova capaci di ogni umiliazione per strappare una moneta di pietà dimentichi della dignità ogni riferimento all'attualità è diabolicamente casuale a